Talia dà fuoco al New England. Artemide ci assicurò che l'alba era vicina, anche se a me non sembrava proprio. Era più freddo, buio e nevoso che mai. In cima alla collina le finestre di Westover Hall erano tutte spente. Mi chiesi se gli insegnanti avessero già notato la sparizione dei fratelli di Angelo e del dottor Thorne. Non volevo trovarmi nei paraggi quando sarebbe successo. Con la fortuna che avevo, l'unico nome che la professoressa Gessette avrebbe ricordato sarebbe stato Percy Jackson e sarei stato bersagliato di una caccia all'uomo su scala nazionale. Di nuovo. Le cacciatrici smontarono il campo con la rapidità con cui lo avevano allestito. Io rimasi la fermo a rabbrividire nella neve, a differenza delle cacciatrici che non sembravano per niente infastidite dal freddo. Mentre Artemide teneva gli occhi puntati verso oriente, come in attesa di qualcosa. Bianca si era seduta in disparte a parlare con Nico. Dalla faccia scura del ragazzino intuì che gli stesse spiegando la sua decisione. Non potevo fare a meno di pensare quanto fosse egoistico abbandonare il fratello in quel modo. Talia e Grover mi si strinsero intorno, ansiosi di sapere che cosa fosse successo durante la mia udienza con la dea. Quando glielo dissi, Grover impallidì. L'ultima volta che le cacciatrici hanno fatto visita al campo non è andata molto bene. Come hanno fatto ad arrivare quassù? Mi chiesi. Insomma, sono sbucate fuori dal nulla. E Bianca si è unita a loro, aggiunse Talia, disgustata. È tutta colpa di Zoe, quella montata, quella buona... Come biasimarla? La interruppe Grover. L'eternità con Artemide? Fece un sospirone. Talia alzò gli occhi al cielo. Satiri, siete tutti cotti di Artemide. Non capite che non sarete mai ricambiati? Ma è così... amante della natura, replicò lui in tono svenevole. Sei proprio fuori, ribatte Talia. Fuori come una stella che splende nel cielo, sì, ammise lui con voce sognante. Alla fine, il cielo cominciò a illuminarsi. Era ora. È così pigro d'inverno. Lei... si riferisce al sorgere del sole? Chiesi. A mio fratello, sì. Non volevo essere maleducato. Cioè, conoscevo la leggenda di Apollo o Helios e del carro del sole che guidava nel cielo. Ma sapevo anche che in realtà il sole è una stella a un fantastilione di chilometri di distanza. Mi ero abituato al fatto che alcuni dei miti greci fossero veri, ma... non riuscivo proprio a capire come Apollo potesse trainare il sole. Non è come pensi, disse Artemide, come se mi avesse letto nel pensiero. Oh, ok. Cominciai a rilassarmi. Così non è che lo vedremo accostare con un... ci fu un'improvvisa esplosione di luce all'orizzonte e un'ondata di calore. Non guardare, mi avvertì Artemide. Lascialo parcheggiare prima. Parcheggiare? Distolsi lo sguardo e vidi che anche gli altri lo facevano. La luce e il calore si intensificarono finché non mi sembrò che il giaccone mi si sciogliesse addosso. Poi, all'improvviso, la luce si spense. Guardai e non riuscì a credere ai miei occhi. Era la mia macchina. Beh, la macchina dei miei sogni, diciamo. Una Maserati Spider decappottabile rossa. Di una bellezza abbagliante. Poi mi accorsi che abbagliava perché il metallo era incandescente. La neve intorno alla Maserati si era fusa in un cerchio perfetto, il che spiegava perché mi trovassi in piedi nell'erba verde e avessi le scarpe bagnate. Il pilota scese dall'auto, sorridendo. Avrà avuto 17 o 18 anni e per un secondo ebbi la sgradevole impressione che fosse Luke, il mio vecchio nemico. Aveva gli stessi capelli biondi e lo stesso fisico atletico, ma non era Luke. Era più alto e non aveva cicatrici sul viso. Il suo sorriso era più luminoso e divertito. Luke non faceva altro che accigliarsi e sogginare, negli ultimi tempi. Il tipo della Maserati indossava jeans, un paio di mocassini e una maglietta senza maniche. «Cavolo, che splendore!» commentò Talia. «Certo, è il dio del sole», osservai. Non mi riferivo a quello. «Sorellina!» esclamò Apollo. «Se avesse avuto i denti ancora un po' più candidi, ci avrebbe abbagliati tutti senza bisogno della macchina solare. Come butta?» «Non chiami mai, non scrivi mai!» «Stavo cominciando a preoccuparmi.» Artemide sospirò. «Sto bene, Apollo, e non sono la tua sorellina.» «Ehi, io sono nato prima! Siamo gemelli! Quanti millenni dobbiamo ancora litigare! Allora, come butta?» la interruppe lui. «Le ragazze sono con te, vedo. Serve qualche ripetizione con l'arco?» Artemide strinse i denti. «Ho bisogno di un favore. Devo andare a caccia da sola. Vorrei che tu portassi le mie compagnie al campo mezzosangue.» «Ma certo, sorella!» Poi alzò le mani come per dire «Fermi tutti!» «Sento che sta per arrivare un haiku.» Le cacciatrici accolsero la notizia con un gemito. A quanto pareva, non era la prima volta che incontravano Apollo. Il dio si schiarì la voce e sollevò la mano in un gesto melodrammatico. «Erba e neve! Artemide soccorro! Quanto sono forte!» Ci guardò con un gran sorriso, in attesa dell'applauso. «L'ultimo verso era di sei sillabe», commentò Artemide. Apollo si accigliò. «Davvero?» «Sì.» «Prova con...» «Sono un esaltato.» «No, no, sono ancora troppe.» «Mmm...» Si mise a borbottare fra sé e sé. Zoe Nightshade si rivolse a noi. Il divino Apollo sta attraversando una fase haiku dopo il suo ultimo viaggio in Giappone. Sempre meglio della volta in cui è tornato da Limerick. Non avrei mai retto un'altra poesia che cominciava con... «C'era una dea che veniva da Sparta.» «Ci sono!» annunciò Apollo. «Sono un figo!» «Cinque sillabe!» «Cinchi no, molto soddisfatto.» «Ora a noi, sorella!» «Un mezzo di trasporto per le cacciatrici, hai detto?» «Tempismo perfetto!» «Stavo proprio per mettermi in marcia.» «Anche questi semidei necessitano di un passaggio», replicò Artemide, indicandoci. «Ragazzi del campo di Chirone.» «Nessun problema!» Apollo ci passò in rassegna. «Vediamo...» «Talia, giusto?» «So tutto di te.» «Lei arrossì.» «Salve, divino Apollo.» «La figlia di Zeus, eh? In pratica sei la mia sorellastra.» «Una volta eri un albero, giusto?» «Felice di riaverti fra noi.» «Non sopporto quando trasformano le belle ragazze in alberi.» «Cavolo, mi ricordo di quella volta...» «Fratello...» lo interruppe Artemide. «Dovresti andare.» «Oh, giusto.» Poi guardò me e so chiuse gli occhi. «Persi Jackson?» «Sì, cioè... sì, signore.» «Sembrava parecchio strano chiamare signore undiciotenne, ma avevo imparato a fare attenzione con gli immortali. Tendevano a offendersi facilmente e dopo facevano saltare in aria le cose.» «Apollo mi studiò, ma non disse nulla, cosa che trovai piuttosto inquietante.» «Bene!» annunciò infine. «Sarà meglio salire, eh?» «La corsa ha un'unica direzione.» «L'Ovest.» «E chi è dentro, è dentro.» «Chi è fuori, è fuori.» «Guardò la Maserati, che avrebbe accolto al massimo due persone.» «E noi...» eravamo una ventina.» «Bella macchina!» fece Nico. «Grazie, figliolo», rispose Apollo. «Ma come facciamo a entrarci tutti?» «Oh...» Il dio sembrò accorgersi del problema per la prima volta. «Beh... già...» «Detesto cambiare la modalità spider, ma suppongo...» Si sfilò le chiavi dalla tasca e premette il pulsante dell'allarme. «Bip, bip!» Per un attimo, la macchina si illuminò di nuovo. Quando il bagliore si spense, la Maserati era stata rimpiazzata da uno di quei minibus che usavamo a scuola per andare alle partite di baseball. «Fatto!» esclamò. «Tutti a bordo!» Zoe ordinò alle cacciatrici di salire. Quando raccolse il suo zaino da terra, Apollo disse «Dai qui, dolcezza! Lascia che lo porti io!» Zoe si scansò con un balzo e un lampo assassino negli occhi. «Fratello!» lo rimbrottò Artemide. «Non aiutare le mie cacciatrici! Non le guardare! Non parlare con loro! Non flertare con loro!» e non chiamarle dolcezza. Apollo alzò le mani. «Scusa, dimenticavo!» «Ehi, sorella, dove te ne vai a proposito?» «A caccia!» rispose lei. «Non sono affari tuoi!» «Lo scoprirò! Io vedo tutto!» «E so tutto!» Artemide sbuffò. «Devi solo portarle al campo, Apollo, e non combinare casini!» «No, no! Io non combino mai, casini!» La dea alzò gli occhi al cielo, poi ci guardò. «Ci vedremo al solstizio d'inverno!» «Zoe, ti affido le cacciatrici!» «Sì, un bravo capo! Fai tutto quello che farei io!» Zoe drizzò la schiena. «Sì, mia signora!» Artemide si inginocchiò e toccò il terreno come per cercare delle tracce. Quando si rialzò, aveva un'espressione turbata. «Stiamo correndo un grave pericolo!» «Quella bestia deve essere trovata!» Si slanciò nel bosco e svanì nella neve e nelle tenebre. Apollo si voltò e sorrise, facendo tintinnare le chiavi del minibus su un dito. «Allora», disse. «Chi ha voglia di guidare?» Le cacciatrici si stiparono all'interno. Si accalcarono tutte in fondo, per stare il più lontano possibile da Apollo e dal resto di noi maschi altamente infetti. Bianca si sedette insieme a loro, lasciando il fratellino davanti con noi, atteggiamento che mi sembrò piuttosto freddo. Ma Nico parve non farci caso. «Che forza!» esclamò, saltando su e giù sul sedile del guidatore. «È davvero il sole? Pensavo che gli dèi del sole e della luna fossero Elios e Selene. Com'è che ogni tanto sono loro e ogni tanto siete lei e Artemide?» «Ridimensionamento», rispose Apollo. «Hanno cominciato i Romani. Non potevano più permettersi tutti quei sacrifici nei templi, perciò hanno mollato Elios e Selene e hanno affidato a noi il loro lavoro. Mia sorella ha avuto la luna e a me è toccato il sole. All'inizio è stata un po' una seccatura, ma almeno ci ho guadagnato la macchina». «Ma come funziona?» chiese Nico. «Pensavo che il sole fosse una grossa, fiammeggiante palla di gas!» Apollo ridacchiò e gli arruffò i capelli. «Questa è solo una voce che probabilmente si è diffusa perché Artemide mi chiamava così una volta. No, sul serio, figliolo. Dipende se parliamo di astronomia o di filosofia. Vogliamo parlare di astronomia? Ma a che gusto c'è? Vogliamo parlare di quello che gli uomini pensano del sole? Ecco, questo è più interessante». Girano parecchio intorno al sole, per così dire. Il sole li scalda, fa crescere i loro raccolti, può dare energia alle loro macchine, rende tutto più… beh… luminoso. «Questo carro è costruito con i sogni che gli uomini hanno sul sole, figliolo. È antico quanto la civiltà occidentale. Ogni giorno percorre il cielo da est a ovest, illuminando ogni più piccola vita mortale. Il carro è la manifestazione del potere del sole, così come i mortali lo percepiscono. Ti torna?» Nico scosse la testa. «No». «Beh, allora immaginalo come una macchina solare, potentissima e molto, molto pericolosa». «Posso guidare?» «No, sei troppo piccolo». «Io, io!» Grover alzò la mano. «Mmm, no», rispose Apollo. «Troppo peloso». Mi sorvolò del tutto con lo sguardo e puntò gli occhi su Talia. «La figlia di Zeus!» esclamò. «Il Signore del cielo!» «Perfetta!» «Oh, no!» Talia scosse la testa. «No, grazie!» «Coraggio!» insistette Apollo. «Quanti anni hai?» Talia esitò. «Non lo so». Era triste, ma vero. Era stata trasformata in albero quando aveva dodici anni, ma erano passati sette anni da allora. Perciò avrebbe dovuto averne diciannove stando al calendario. Ma si sentiva ancora come una dodicenne e, a giudicare dall'aspetto, sembrava mezza strada tra le due età. L'unica cosa che Chirone aveva potuto stabilire era che aveva continuato a crescere anche in forma arborea, solo molto più lentamente. Apollo si diede dei colpetti sulle labbra con il dito. «Hai quindici, quasi sedici anni. Come fa a saperlo? Ehi, sono il dio della profezia. Conosco le cose. Compirai sedici anni fra una settimana circa». «È vero! Il mio compleanno è il 22 dicembre. Il che significa che sei abbastanza grande per guidare con il foglio rosa». Talia si agitò un po' sul posto. «Ehm... so cosa stai per dire», continuò Apollo. «Non ti senti degna dell'onore di guidare il carro del sole?» «Non è quello che stavo per dire. Non ti agitare. Dal Maine a Long Island è soltanto un viaggetto. E non ti preoccupare per quello che è successo all'ultimo ragazzo che ho addestrato. Sei la figlia di Zeus. Non ti fulminerà». Apollo rise di cuore. «Ma il resto di noi non si unì alla sua risata». Talia cercò di protestare, però Apollo era deciso a non accettare un no come risposta. Pigiò un pulsante sul cruscotto e in cima al parabrezza spuntò un cartello. Dovetti leggerlo al contrario, non che facesse differenza per un dislessico. Ero piuttosto certo che dicesse «attenzione, principiante alla guida». «Tranquilla», disse Talia. «Sarai un pilota nato». «Ero invidioso, lo ammetto. Non vedevo l'ora di cominciare a guidare». Un paio di volte, quell'autunno, mia madre mi aveva portato a Montauk, negli orari in cui il lungomare era deserto, e mi aveva lasciato guidare la sua Mazda. Ok, d'accordo, era un'utilitaria giapponese, mentre quello era il carro del sole. Ma quanto sarà stato diverso?» «La velocità è proporzionale al calore», l'avvertì Apollo. «Perciò parti piano e assicurati di raggiungere una buona altitudine prima di darci dentro». Talia strinse il volante così forte che le si sbiancarono le nocche delle mani. Sembrava sul punto di vomitare. «Qualcosa non va?» le chiesi. «No, niente», rispose lei incerta. «Tutto bene». Tirò indietro il volante, che si inclinò. Il minibus balzò verso l'alto così in fretta, che io caddi indietro e andai a sbattere contro qualcosa di morbido. «Ai!» urlò Grover. «Scusa!» «Rallenta!» esclamò Apollo. «Scusi!» disse Talia. «Tutto sotto controllo». Riuscì a rimettermi in piedi. Guardando fuori dal finestrino, vidi un anello fumante di alberi nella radura da cui eravamo decollati. «Talia, vacci piano con l'acceleratore», protestai. «Tutto sotto controllo, persi», ripete lei a denti stretti. Però continuava a schiacciare l'acceleratore a tavoletta. «Rilassati», le suggerì. «Sono rilassata», replicò lei. «Era talmente rigida, che sembrava di compensato. Dobbiamo virare a sud per Long Island», annunciò Apollo. «Gira a sinistra». Talia sterzò, gettandomi di nuovo addosso a Grover, che strillò. «L'altra sinistra», fece Apollo. Commisi l'errore di guardare di nuovo dal finestrino. Eravamo a quota aeroplano adesso, così in alto, che il cielo cominciava a essere nero. «Ah!», esclamò Apollo, e debbi la sensazione che si sforzasse di sembrare calmo. «Un po' più in basso, dolcezza. Cape Cod sta congelando». Talia inclinò il volante. Aveva la faccia bianca come il gesso e la fronte imperlata di sudore. C'era decisamente qualcosa che non andava. Non l'avevo mai vista in quello stato. Il bus cominciò a scendere in picchiata e qualcuno urlò. «Forse ero io». Ora stavamo precipitando verso l'Atlantico a mille miglia all'ora, con la costa del New England lontana sulla nostra destra. E nell'abitacolo iniziava davvero a fare caldo. Apollo era finito da qualche parte in fondo, ma cominciò a risalire fra i sedili lungo il corridoio. «Prenda il volante!», lo implorò Grover. «Non vi preoccupate!», rispose il dio. Sembrava preoccupatissimo. «Deve solo imparare a...» «Cavolo!», vidi anch'io quello che stava vedendo lui. Sotto di noi c'era una piccola cittadina innevata del New England, o perlomeno una cittadina che prima era innevata. Sugli alberi, sui tetti e sui prati, la neve si sciolse in quel preciso istante. Il candido campanile di una chiesa imbrunì e cominciò a prendere fuoco. Piccoli pennacchi di fumo, come le candeline di una torta, spuntarono in tutta la città. Alberi e tetti si stavano incendiando. «Sali!», strillai. C'era una luce folle negli occhi d'Italia. Strattonò il volante e stavolta riuscì a tenermi forte. Mentre ci rialzavamo come un missile, vidi dall'unotto posteriore che gli incendi diffusi nella cittadina si spegnevano per l'improvvisa ondata di gelo. «Laggiù!», indicò Apollo. «Long Island, sempre dritto. Rallentiamo un po', tesoro. Così ci ammazziamo. Cioè, non tutti, naturalmente. Ci stavamo lanciando verso la costa settentrionale di Long Island. Ecco il campo mezzosangue, la valle, il bosco, la spiaggia. Scorsi il padiglione della mensa, le capanne delle case e l'anfiteatro. «Ho tutto sotto controllo», borbottò Talia. «Ho tutto sotto controllo». Eravamo a pochi chilometri di distanza ormai. «Frena!», disse Apollo. «Ce la posso fare!» «Frena!». Talia pigiò il pedale del freno. Il bussolare si impennò di 45 gradi e atterrò di schianto nel laghetto delle canoe con un gigantesco splash! Un'enorme nuvola di vapore si levò dall'acqua e le naidi fuggirono terrorizzate, lasciando i cesti di vimini intrecciati a metà. Il bus rimase a galleggiare sulla superficie, insieme a un paio di canoe rovesciate e mezzo affumicate. «Bhe!», esclamò Apollo con un sorriso temerario. «Avevi ragione, mia cara! Avevi tutto sotto controllo! Andiamo a vedere se abbiamo bollito qualcuno di importante. Che ne dici?»